SIGLA Sapete, sono molto emozionata per il mio prossimo progetto Che bello, tornare finalmente alla Rainbow High Cara, dolce Rainbow High La Pacific Coast High era molto carina Però la sabbia si appiccica addosso persino più dei glitter Basta così, grazie Ciao, mi siete mancate tanto Che ci siamo perse? Non molto, è andato tutto come al solito I soliti compiti, i soliti drammi, le solite lore e le olle, sai Sono sempre dei dirigenti E come al solito i tre A sono assolutamente favolosi Scusate, problemi con la coda di cavallo E come al solito dobbiamo correre per andare a lezione A dopo Sunny? Fa tutto bene? È come se fossi stata trascinata nel passato dove tutto era ancora in bianco e nero Wow, le tue animazioni hanno perso tutti i colori Ma dove sono finiti? Oh, adoro usare tonalità monocromatiche Ma sembra una cosa lontana dal tuo stile, Sunny No, io non lavorerei mai senza colori Ma lei lo farebbe di certo, è tipico Lei? Lei chi? Quando lo faceva con i miei poster Ma qui si tratta della mia arte Sunny, va tutto bene Io e lei dobbiamo parlare Mi piacerebbe tanto collaborare su un progetto, Jade Perle di vetro soffiato Ci ho messo settimane a finire Ho usato un filo ultraforte ordinato apposta Wow, che bellissima Oh no, tutto quel lavoro Oh come è potuto succedere? Io ho usato... Filo che si dissolve col calore Doveva essere un filo per collane super resistente Di sicuro qualcuno l'ha sostituito È assurdo Ragazzi, sto lavorando su un pezzo Che in un certo senso è proprio come me Perché è molto... Poppy Capito? Come? Rainbow High? Stiamo arrivando Non so come farlo Hai sentito cosa è successo al corso di musica? Quella voce È stata una cosa tremenda È stata una cosa tremenda La sento ancora dentro la testa Quelle perline Tutte sul pavimento Magari è stato solo uno scherzo Uno scherzo piuttosto elaborato Che farebbe mai una cosa simile? Forse sono stati gli dei della moda Impossibile! Gli dei della moda non avrebbero mai rovinato un accessorio così bello Fidatevi No Questo tipo di scherzi è tipico della... Shadow High Già È stata di sicuro la Shadow High La Shadow High? Perciò quel posto esiste davvero Pensavo che la Shadow High fosse semplicemente una scuola Che cosa vogliono? Credi sul serio che lei sia coinvolta in tutto questo? Attenzione studenti della Rainbow High Recatevi subito nell'auditorium Per una tipica, normalissima assemblea Ma quella non sono io Dobbiamo sul serio fare questa cosa ogni anno? Dov'è la Presidente Wright? Pensi che l'abbiano rapita? No Loro non mi hanno rapita Sentite ragazzi La Rainbow Vision è semplicemente una sana competizione musicale Tra i licei migliori di tutto il mondo Non dovrebbe diventare una rivalità tra noi e... Oh! E loro Gli scherzi e le buffonate in occasione della... Rainbow Vision Tra la nostra scuola e la Shadow High Stanno iniziando sempre più presto Rainbow High Farete meglio a essere pronti? La Shadow High vi batterà in modo schiacciante alla Rainbow Vision La Rainbow High ci ha fatto troppi sgarri in passato E stavolta la Shadow High avrà finalmente la possibilità di emergere dalle ombre È in arrivo un eclissi per voi Non so come se sono cose che credi La Shadow High credono di essere i nostri maggiori rivali Ma non c'è proprio paragone tra noi e loro La Rainbow High alla fine vince sempre Quella scuola è piena di perdanti amareggiati! Non dobbiamo preoccuparci della Shadow High Finiamo sempre per vincere noi Già! È positivo avere un po' di sana competizione Vi ricordate quando sono riusciti a sollevare la statua dell'unicorno sopra il tetto della scuola? Credevo che quella fosse una leggenda metropolitana Ma quelli della Shadow High possono solo essere leggende nelle loro menti contorte Ma hai visto che facce hanno fatto? Ero quasi troppo occupata a giudicare i loro abiti scadenti per notarle Abiti scadenti? E delle facce buffissime Naomi! Cosa? C'è un ostacolo sulla strada? No! I tuoi capelli! Lo so Li stavo ancora sistemando Cavolo! Che sta succedendo Sunny? Perché ci hai chiamate tutte qui? È il momento che io vi dica la verità sulla Shadow High Ho tanta paura che questi scherzi cominceranno a colpire tutte voi Perché conosco una persona in quella scuola Cosa? Chi? Chi? La mia malvagia sorella gemella Ehi! Com'è andata? Abbiamo la loro attenzione La Rainbow High farà una brutta fine OkCCS Mister La discarded Buona vita OkCCS